50 stile junior femmine la prossima gara batteria 1 fontani alla trezza nardo alla quattro e marabotto in cinque dunque massimo chiarioni a centro vasca campione giovanile dei cento e duecento stile libero mentre Zuin è stato terzo sui cinquanta sono loro due nelle prime posizioni vediamo i tempi ventiquattro e diciannove per chiarioni che è secondo generale Zuin ventiquattro e settantasette quarta posizione si prosegue junior femmine batteria 1